Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, ben arrivati su Ale e Tale Tavern Gioco ragazzi che mi è stato praticamente regalato per provarlo E quindi ho detto, beh, proviamolo Il gioco è uscito da, non molto, penso da meno di un mese E' per PC, lo trovate su Steam Si può giocare fino a 4 persone E in pratica dobbiamo gestire una taverna nel, diciamo, periodo medievale Allora, il gioco, come potete notare, è in italiano Io so da solo, quindi, ma comunque insomma ci si può giocare anche da solo E quindi lo andiamo a provare Ovviamente se può interessarvi in descrizione c'è anche un link Per comprare tanti altri giochi scontati, se dovessi interessarvi Allora, la taverna di Nick, ovviamente Non si può staccare? Non si può staccare, niente E che, boh, tutto attaccato deve essere il nome Vabbè, la taverna di Nick Deve essere tutto attaccato Solo amici, proibisce i clienti di rimuovere i mobili Forse vuole dire agli amici Va bene, allora Vediamo un po', quindi In cosa consiste questo videogioco Allora, perfetto Dunque, in alto a sinistra vedo che ho 3500 monete Giù, in basso vedo la vita La barra, diciamo, rapida In basso L'inventario con tab E ricette Porridge d'orzo Quindi dobbiamo praticamente vendere Nella mia taverna dovrò vendere diverse cose Cose che vanno, diciamo, sbloccate Allora, Missioni, parla al mercante Il mercante è quel tizio sospettoso vicino alla tenda Allora, stato giorno 1, ore 12.44 Pulizia, velocità servizio, varietà, esperienza, reputazione Dove va la con sto tizio qua? Allora, questo sarebbe il mercante Sono il proprietario, sì Allora, sì, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern My dream has come true Some dream of becoming knights in shining armor Saving royal figures Engaging in duels And determining the fate of the world And you dream of serving oatmeal and ale to commoners? Well, why oatmeal? I have a knack for culinary arts My purpose is to turn sad and hungry citizens Into happy and well-fed ones Well, it's a noble cause The people around here love to eat and drink And they know how to have fun Nice to meet you And who might you be? I'm a simple merchant I was about to set off looking for a busier place But perhaps I'll stay I see potential in you And where there's potential, there's trade In short, if you need anything, come to me To buy, to sell And I'll also share some news with you What a wonderful place And such kind people Our land is wonderful But it's not always peaceful Especially at night Monsters roam the forests and swamps Disturbing the peace But don't be afraid I have weapons too Could you elaborate on that? Don't sweat it It's mostly just village ghost stories But getting an axe Is a good idea You'll use it to keep things in line at the tavern And to send any troublemaker packing You have a way with words Ah, ok, dunque Vediamo un po' Di notte ci stanno animali cattivi Quindi bisogna difendersi Devo comprare un'ascia per buttare fuori Diciamo I clienti maleducati Quindi negozio Allora Di sicuro Aspetta Spesa di consumo Ascia Compra Ok Ci ho l'ascia Vabbè Poi posso comprare Un bel niente Per ora Spacca le assi Per entrare Nella taverna Ok Ci sono altre assi E Aspetta Ah Basta entrare così Beh Fico Non si vede niente Praticamente Ho acceso una candela Ah E la miseria Una candela Ah no Ok Si sono accese pure le altre candele Va bene Spacca tre vecchie botti O casse Spacca casse O botti Ok Compra una scopa Giustamente Dobbiamo pulire Ma che è Ah Inventario Giocatore due Giocatore tre Giocatore quattro Ma ovviamente Non c'è nessun giocatore Ah vabbè Lo scopa attuale È quello di Ripulire Diciamo La taverna Quindi dobbiamo togliere tutte le schifezze Che stanno in giro Ok Allora dobbiamo Allora Dobbiamo comprare Una scopa Andiamo a scopare Nel medioevo Si scopava bene Per terra ovviamente Rimuovi il ragnatele Ma io tolgo tutto Pulisco bene Allora vedo che ci sono Vari punti Che bisogna sbloccare Salendo di livello Aspetta Le ragnatele Ma al momento C'è il primo piano Ma forse il primo piano Va sbloccato Perché Non so come ci si sale Una ragnatele È andata È una Mi sa che è qua dietro Ok Allora Buono Compra Un portabotte Lavastoviglie Lavastoviglie Compra pure la lavatrice Compra fornelli Vabbè Compra Compra Dunque Ok Un Ripara martello Un martello da riparazioni Ma quanti soldi ho con me Scusa Ah 3100 Allora Un portabotte Vabbè Insomma Tutta sta roba qua Ma dammi anche Ma dammi anche il ripara martello Che non ce l'ho Allora Sta roba si può ordinare Ecco così Magari Allora Ripara martello Anche se non era richiesto Comunque Installa il Portabotte Portabotte Ah va messo qua E Installa Vabbè Questa è tutta roba Che posso Cioè La cucina La posso fare Qua Ovviamente No Potrei anche metterlo qua Questa Lavastoviglie Per lavare i piatti Poi Abbiamo Singolo Fornello Oh Quasi quasi Io piazzerei qua Che me frega Fermentatore Per la birra Eh Questo mi sa Che lo piazzo Qua sotto Va E Infuso Mmm Non lo so Forse lo piazzo Pure questo Qua sotto Va Ok Ok Ancora Ah compra Una botte Che mi sa che va messa qua sopra Orzo Secchio Tazza Oh sta arrivando la notte Compra orzo Botte Tazza Secchio Comunque Il fatto che Molti Non so Di preciso Cioè Probabilmente In molti Si possono Cioè Con i vari amici Si possono servire meglio I clienti Insomma No Allora Riempi il secchio Di acqua Fai un mosto D'orzo E che c'è Devo fare qua Devo fare così Ah 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 ok Ok Ma la porta Non la posso chiudere Metti che entra qualche mostro Qua è arrivata la notte Riempi una tazza di birra Ad alta Ah sto facendo la birra Lol Sta arrivando la notte Raga Per ora Non vedo mostri Se questa è tutta spazzatura Beh però Non me la fa togliere Comunque le asce Lascia si rompe Dopo un po' Allora Allora a breve Ci abbiamo Quindi se ho capito bene La birra pronta Allora Nel gioco Sono le 21 Allora Il mosto è pronto Prendi mosto Il mosto Modo sta Ah eccolo qua Mosto 150 vale Realizzo una botte Di birra Ad alta fermentazione Fermentare Inizia a cucinare Condizione Ok Allora Cioè il mosto Dorzo E mezzo secchio D'acqua Cucina Io vado a riempire Di nuovo Il secchio D'acqua Beh tanto È meglio Averlo pieno Che vuoto C'è un po' C'è un po' il timore Ad andare fuori Al buio Ok Installo una botte Di birra Botte di birra Questa E Prendi Una tazza Di birra Ad alta fermentazione Prendi una botte Di birra Ad alta fermentazione Riempi Una tazza Di birra Ok Così Fatto Ok Ma fammi capire Ok Compra un tavolo Salve Allora Compra Un tavolo E a sedia No Stanno in piedi Allora Diciamo che Il bello Del tavolo È che Lo si può Piazzare Un po' Dappertutto Con la R Si può Ruotare Si beh Diciamo Bisogna capire Dove metterlo Ma Quasi quasi Però Eh si Tanto uno Ce ne entra Allora La musica L'ho messa Un po' piano Però chiaramente È carina Da sentire Crea Un po' Porridge D'orzo Allora Secchio D'acqua E devo andare A comprare L'orzo Stavolta Lui Non me lo dice Dice Ma ormai Hai capito No Oh Stava finito I soldi Zio Ma non mi serve Un piattino Per servire Sto porridge Non c'ho Il piatto Mi manca La ciotola Prendi Necessario Piatto Appunto Mi sa che Il piatto Lo devo Comprare Zio Mi devi vendere Un piatto Ce l'avrai Tavolo Forno Scaffale A meno che Ah eccolo qua Di fatti Piatto Ma ne compro due Aggiungi un porridge Al menù Aggiungi birra Al menù Ah Menù Così Apri la taverna Ok Beh D'altronde In taverna Si dovrebbe Lavorare Più di notte Che altro No Taverna Aperta Aspetta I visitatori Servi tre piatti Si il piatto Magari a quest'ora Starà diventando Freddo Ah Schlott Piatto Metti piatto Metti piatti Allora C'abbiamo Nove Birre E Qui Quattro Piatti Ok Ma verrà mai Qualcuno A mangiare E con calma Allegio Però Signorina Porca miseria Che niente male Signorina Niente male Niente male Devo dire Ciao C'ha una clienta Molto abbondanta Allora Che cosa le devo fare Signorina Cioè Come la posso servire L'orella Una tazza di birra Ad alta fermentazione Servi piatto Aspetta Così A salame A salame Salame Signorina Pure quello Tengo E a sandro Non si è fatto vedere Ancora Signorina Dice che c'è Sandro Che l'ha visto Oh la la Manco quello Ho visto Oh la la Oh Sì Giame A lei Signorina Salva lei Cazzo Propriato Lotto Allora Per lei Signorina Ad alta D'alta fermentazione Un attimino Che devo Sciacquare Propriato Che cosa Ho lavato Metti Lava Piatti Oh Fico Beh Fico E Fico Allora Ecco Le signorina Una bella birra Frisca Frisca Di giornata Allora Io devo andare a comprare No Devo andare a comprare Un altro Per forza C'è un bicchiere Solo Poco Sì Mi deve vendere Un altro bicchiere Mi deve Tazza Un'altra Da Due Due tazze Due Piatti Oh Mi scusi Pure per lei Una tazza e birra Arriva subito Signore Ecco Cà Un cazzo Stava a parlare Ma soprattutto Che sta a dire Non si capisce niente Ma che lingua è A posto Oh signorina Io dovevo caspire Uscita lei Un piatto Finalmente Signorina Ecco a lei Ammazzo Date un attimo Un attimo Di ciequa Però adesso E ora Passate Ma aspetta Allora Signore Signore Che ci posso Puttare Un piatto di porridge Subito Un piatto di porridge Po signore Ecco a lei Per lei Una birra Ce la potto Subito Ce la potto Subito Ecco a lei Signore Ma i soldi Quelli che mi danno Piatto sporco Ma i soldi Me li danno Ma questo è Pulito Piatto pulito E pulito Non ne so Proprio sicuro Comunque vado a pigliare Oh porca E' andata Ma un attimo Di treguamo Allora Andata a se birra Pa signora E ma qua sto A fine tutto Io Questo è Piatto sporco Ok Ah il bicchiere Sporco Tazza Ok io vado a pigliare Un secchio d'acqua Ho già fatto giorno Poca miseria Allora Teoricamente La roba Non è infinita A birra Finisce Devo fare l'altra E soprattutto E porridge Devo fare Ma mi serve Per aiuto a me Oh l'acqua L'acqua Allora dunque Niente Devo andare a pigliare Di nuovo Il secchio d'acqua L'ho finito Allora devo fare No ma il porridge Come lo faccio Che Vabbè Allora Mosto Secchio d'acqua E mi serve Dieci di orzo Andare a comprare L'orzo Devo andare a comprare L'orzo Allora Un piatto Di porridge Mizzica Si lavora Di brutto Da Valembia Allora Orzo Grazie Ah ma Chiudi la taverna Ecco che Caspita Aspetta un attimo Porca miseria All'ampiatto Porridge Po signore Ma io qua ho finito Il porridge E' un bel problema Allora Orzo Per lei signore Una birra Per lei signora Una birra Per lei Un porridge L'ultimo Mi pare Che è rimasto No Non c'è ne più Allora Secchio d'acqua Orzo Cucina Ok Vabbè Si può fare Si può fare Si può fare Piatti sporchi Come c'è da sgobbare Porridge Per il signore Arriva subito Ecco a lei Per lei signorina Una birra Sta a finire A birra Ma la stoffa Ma che sto Umbria qui Cristiano Cristiano Tu non gli un coppì Ma te Cristiano C'è da rendaglio Cristiano Cristiano Forza A casa Che adaglio E' da mochiate Sta sbottando Vai Avanti Va Grazie Signorina Che mi sta a dare Cosa E' il piatto Sporco Ovviamente Allora Che ci abbiamo Qua Piglia Questo Metti Questo Fai Così Fai Con la Piglia Quista Piglia La La Mostro Dozo Secchio D'acqua Secchio D'acqua Finito L'acqua Finito L'acqua Muovendo Che Arrivo Vabbè Lui Dice Chi da la taverna Io mi sto Ricriando Allora Un attimo One second Mettici Questo Cucina Arrivo Signor Che c'è Chi vuole Biatti porridge Subito Subito Per lei Biatti porridge Servito Allora Qua Non si chiude Mai Praticamente Né di giorno Né di notte Che devo fare Prendi una botte Di birra Necessario Una botte Ah Ci vuole proprio La botte Ah Vabbè Va bene Va bene Allora Porridge Ah Piatto Sporco Cacchio Piatto Era Sporco Ora E pulito L'acqua È quasi finita È tutta Ingrasciata Tutta Spocca Pizzi Che Cosa ci vuole Per l'ambia E la birra Ho quasi finito La birra Vabbè che ho fatto L'altra Allora Piatto sporco Vabbè Ora chiudiamo La taverna Volevo giusto Liberarmi Dell'ultima birra E anche Del porridge Vabbè Per fortuna Non è come In quell'altro gioco Là Che si deve Buttare La roba Dopo un po' Porridge Per la signora Per lei Una birra Sembrava birra Quindi questa Due cose Vuole Forte E come Aspetta Allora Devo via Questo Ah Mo ho capito Mo ho capito Come funziona È sporco Quindi ho capito Ho capito Addirittura Due cose Servi Piatto Sta bene Porridge Si aspetta Oh Ad un nastro Ambrogio Ambrogio Ti sta aspettando La signora Che vuole Com'è Com'è Che diceva Ambrogio Voglio Un languorino La signora Ti sta aspettando Con l'anguorino Vai Per lei Porridge Signora Che ti ammana Porridge Porcazzuzza Vabbè Senti Io Chiudo Perché Non ce la faccio Basta Basta Chiudo 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 Mi serve Un attimo Di tregua Siamo Chiusi Sì Vabbè Ma che ste Comunque Aspetta Oh cavolo Minchia Signora Magari L'embriaca Ottavia Avanti Ho la Vedì Piatta La casa Forza Attene Due Porridge Eh vabbè Mi serve Secchio d'acqua A me Oh Quella Canta Senti Come Canta Bella Se la Canta E se la Sciuscia Allora Dunque Mi serve Secchio d'acqua E orzo Temena Ora compro un po' di ozzo extra Comunque a quanto pare devo servire gli ultimi clienti Travellezio Dammi doppio orzo perché non ci basta mai Comunque mi sta piacendo dai Sto Ah certo finché devo gestire due cose e poi se devi gestirne 50 c'è da impazzire E quello è il problema servi 10 piatti siccome finora non ho servito niente Aggiungi l'acqua qui dentro Allora devo servire due porridge Prendi un porridge necessario Ah su sporchi sti piatti Ok Arriva il porridge Uno E due Ma non c'è tipo un inventario Cioè nel senso Non c'è un posto dove depositare gli oggetti in più Così da non tenermeli con me C'è una cassa Un posto dove depositare le cose Insomma sarebbe bello Allora abbiamo due lire devo dire Quelle due lire potrei spendere e comprare qualcosa Allora lavare Quindi per ora siamo chiusi per respirare un attimo Siamo un attimo chiusi per poter un attimo pigliare un po' di fiato Perché ovviamente a servire tutti sti clienti dopo un po' ci si rincoglionisce Salva lei Allora una bella botta di birra in più Ma la piglierei E una tazza in piatta in più fa comodo E anche una botta in più Ok sto comprando a casaccio Ho visto che c'è il baule Che probabilmente Allora la porta botte ci vuole pure E basta sto spendendo già troppo Devo riaprire difatti Se no non posso lavorare mica Ah ok allora facciamo così Questo lo piazzo qua La botte e la botte vuota che me serve Questo cos'è botte di birra Ah ne ho già due piene Come è possibile Ma quante botte tengo con me Ma quando è che ho comprato così tante botti Ah vabbè oddio Ah figo Posso buttarle per terra Ah comunque no Il mio inventario non è scarso Ok Quindi tipo il martello che non mi serve Ok così ho la roba a portata di mano Ok Il porridge ce l'abbiamo Ok 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 Suona campanello Menù cibo Sempre quello Ah oh Ma ha fatto picchiano infarto Mi ha aperto la porta in faccia proprio Zia Cosa ti posso dare Caterina Una bella birra a Caterina Che l'ambriachiamo Vai Bevila tutta Caterina Como A sabato ce ne andiamo a pescare Vabbè non c'è problema Come dici tu Perché ci sono problemi Se sabato andiamo a pescare Oh ma sto posto è pieno di donne attraenti Ma io mi ci trasferisco Guarda Allora signora Signorina Che ci posso dare a lei Una birra Subito Arriva immediatamente Senti come fa Allora L'acqua manca qua dentro Aggiungi acqua Beh la birra te l'ho data no? Sì Allora riempiamo Il secchio Grazie Buona giornata Teoria c'è ancora da pulire in giro Ma non trovo Ah qua Occhi aperti Che E chi sta quando è arrivata Chi l'ha vista Ah ok un porridge E una birra Un porridge Una birra Pa signorina Che c'ha vi fami E c'ha sete Vuoi una torta? Per ora non ne vendo La torta Eh non c'è la torta Allora aspetta un attimo Ma perché Oh questo Devo togliere Oh salve signore Che c'è potto Porridge Non c'è su problemi Ho appena visto Una ragnatella Che avevo tolto Ma è possibile Che è tornata Ma Oh zia A casa Dai Casa embriaca Vai a casa La dini Dai Guarda Per terra Mi hai buttato il piatto Che ci vuolta a lei Una birra E una birra sia Per lei Porridge Per lei Birra Allora birra Per lei Ce la posso portare subito Perché Ce l'ha portata di mano E il piatto Pure Ma che sto lavorando Come un mulo Allora Oh ma è sbollito Da quando è che ce l'abbiamo Vabbè ma non l'ho messo Nel menu Quindi Quindi non avendolo nel menu E lei signore Porridge È piatto sporco E in più il porridge Si sta cucinando Quindi Guarda come se la canta Oh si avanti Dai Oh Cucca di Dai Olivia Dai Mattina La casa Olivia Oh no scusa Ottavia Quella Olivia Pensavo che era Olivia Parente di coso Come si chiama Parente di braccio di ferro Da prima Ah abbiamo fatto Un ordine è arrivato Ok chiudiamo 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 Perché devo parlare col mercante Basta 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 Ok Bello Mi piace Non è male Cioè tu c'è da impazzire Come sempre A servire tanti clienti Ma d'altronde Giochi e multiplayer Quindi Se giocate con gli amici È più gestibile Uno cucina Uno pulisce i piatti Uno serve Insomma Ovviamente Si semplifica Tanto la vita No Oh ma È difficile Vedere lo sporco Però devo dire Ma non lo vedo proprio Sta bene Allora Parla col mercante Trovo un tizio magro E spaventoso Chi è Poddy Beh Non è proprio Magro La verità Poddy Oh forse è qua Che devo pulire 93% pulito Allora livello 8 Livello 8 Ma io che livello sono E qua è tutto livello Qua 4 8 8 Ma perché Chi c'è lì dietro Ah è quello Il tizio magro Credo Va bene ragazzi Ovviamente Non posso fare tutto Oggi Quindi Credo che Concludo il gameplay Però comunque Si Pare interessante Il gioco Quindi Penso di Portarlo Di sicuro Ancora una volta Va bene Allora Si salva la partita Gioco salvato Perfetto Ragazzi Spero vi sia piaciuto Il gameplay Vi ricordo Questo gioco Lo trovate Su steam In descrizione Come sempre Vi lascio il link Per comprare Tanti giochi scontati Non so se c'è questo A dirvi la verità Dateci voi Un'occhiata E niente Ci becchiamo presto Quindi ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima